Buon ragazzi il mio nome è Raffi e oggi siamo qui con un altro episodio di Boom Beach Sono molto contento che lo scorso episodio vi sia piaciuto Oggi ragazzi volevo potenziare il municipio che sarebbe il quartier generale Infatti ragazzi uno nei commenti mi ha scritto di fare prima di tutto le imbarcazioni Me ne manca solo una, le altre le ho tutte al massimo Quindi potenzieremo questa e poi passeremo subito al municipio Quindi mettiamo questo a lavorare e non abbiamo più legno Quindi direi subito di farci un attacco Tra l'altro guardate quanto è diventata grande la mappa Ho sbloccato un po' di roba con l'oro visto che non mi serve Quindi sblocchiamo tutta sta roba, anche questo, già che ci siamo Ehi tu, questo spunta così a caso ma cosa vuoi? Hai trovato la mia base segreta eh? Ho cliccato semplicemente a caso Guarderò lo sterminio delle tue truppe assaporando un caffè Va bene Mamma mia li spacco il culo a questo qua Però dopo Come vedete ragazzi ho fatto, ho potenziato molta roba Le torri dei cecchini che sono bellissime Cioè a parte che sembra bacon questo qua, bacon grigio Ho fatto il mortaio, la mitragliatrice che credo che nello scorso episodio non ce l'avevamo Ho fatto questo che sarebbe il laboratorio in clash of clan Ho già fatto tutte le truppe al massimo quindi nessun problema E infatti ragazzi credo che sia l'unico modo per sprecare l'oro Se sbaglio ragazzi correggetemi E basta ho quasi tutto al massimo Mi manca questa abitazione Però prima voglio attaccare il generale Mussolini come l'avete chiamato voi Abbiamo un bel po' di truppe Però non so cosa sia quella roba lì Ma credo sia molto forte Eh sì ragazzi questa non promette bene Quindi Mamma mia se non ci fosse quella T'avrei già spaccato tutto Quindi terminiamo e andiamo ad attaccarne un altro Oh una cassa Già che ci siamo sblocchiamo tutta sta roba qui Mamma mia una cassa Un'altra Tra l'altro una cassa sopra il mare Bellissimo Un'altra Guardate quanto è diventato grande Io non so per quanto vada Però è molto interessante questa cosa Mi piace molto Tra l'altro non ho capito cos'è questo punto esclamativo Nuovo avversario Vuoi davvero trovare un nuovo avversario? Vabbè proviamo Non so cos'è E non ha fatto niente Boh Ragazzi ho molto molto da imparare su questo gioco Che mi sta piacendo sempre di più Ok abbiamo consumato tutto l'oro Quindi per ora abbiamo tutte queste Diciamo isolette da distruggere Attacchiamo per primo questo E cos'è quella roba? Ok proviamo con questo Speriamo non sia forte come l'altro Eh dai questo potremmo farcela Io ci provo eh Tra l'altro ragazzi mi scordo sempre di queste abilità qui sotto Ma giuro non lo faccio apposta E che non sono abituato Questa roba qui Non so cos'è Cos'è quella roba? Però meglio non attaccarlo Ok vediamo che fa questa roba qui Che tra l'altro è bellissima Ok ho messo tutto Oh mamma mia è fortissimo È devastante Però ce la facciamo Mi sa che becca solo le truppe a distanza Però è molto molto forte Facciamo fuori questo mortaio E ho paura che vadano nelle mine Mettili tutti qua No 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 Ecco come ne ho detto Comandante abbiamo intercettato Trasmissioni della guardia nera Riguardo a un'arma segreta Oh un'arma segreta rega Pare che stiano sperimentando Una mitragliatrice a lungo raggio Divestita di una corazza di titanio Wow sembra forte Perfetto anche questa abbiamo preso tutto Nessuna perdita perfetto Tra l'altro questo numerino qui sopra Non ho capito a cosa serve Forse è il livello non lo so Ah si si è il livello Molto utile questa cosa Direi di attaccare questo qua Che dovrebbe essere scarso E invece non lo è No abbiamo poche truppe Quindi direi di no Tra l'altro ragazzi non ho capito A cosa servono i diamanti Dove va? Dove va questa barca? Boh Ragazzi abbiamo ancora molto molto da fare Mi sa che non ce la facciamo a fare in municipio Ci manca un bel po' Guardate qui c'è un vulcano Richiede il radar di livello 5 E' peccato Proviamo ad attaccare questo Anche se la vedo molto brutta Io ci provo Perfetto ho distrutto la mitragliatrice Ora metto tutto Oh mio dio Arrivo fino a lì? No ma dai è troppo forte Mettiamo una cura? No vabbè regà è devastante Dai dai che ce la fate Dai che ce la fate Dai andate lì subito Se ce la faccio è epico Oh mio dio Non ci credo ragazzi ce l'abbiamo fatta Non pensavo di farcela Però quel coso è veramente devastante Tra l'altro non ho capito se quello è il quartier generale Probabilmente a livello più alto Sembra tipo un faro Tre anni per distruggere un quartier generale Dai su Manca un pelo Dai Oh finalmente Ma non abbiamo preso un granché Però ci sta Tra l'altro non ho capito perché mi fa andare Boh ragazzi non ce la facciamo a fare il municipio Ci mancano ancora 3000 di legno Quindi lo faremo nel prossimo episodio Una stella Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate ed iscrivetevi Noi ci diamo al prossimo giorno Con un prossimo video Va ragazzi Ciao 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 Ciao